C'era Buonaventura probabilmente sulla linea di Porta, ma ha disinteressato saltando e toccando i Borini, non poteva sbagliarli, doveva per Porta cercare lo specchio di Porta, da pochi passi sempre insomma... Qui vediamo, molto bravo Conte, nella sovrapposizione, in qualche modo Andrea Silva, non ho capito se Andrea Silva deve essere tirare o toccarla, a prolungare... Poi non ha tirato in Porta e ha preso male ai palloni, però troppo avanti risulta il pallone... Poi Borini che dà un bel po' di cercare... Sulla linea di Porta ha venuto in posizione irregolare e è saltato... Fabio Borini ha vinto...